Battuta di Sperotto, battuta in salto, una piazzata, ricezione di Pinetto, palla dietro, difeso subito al primo attacco da parte di Conn che può contrattaccare, lo fa con Suraci, lavora bene però il muro di Pinetto, si crea un'altra occasione e va a spingere fuori questo, via al servizio. Pochini stavolta, perfetto per Sperotto, palla dietro per Marx, dai 9 metri, palla tocca il naso, c'è arriva Pochini, perfetto per Sperotto, ancora pallonetto che cade, non si terrà neanche uno, Paris ancora per Pochini, Catellani prova a sorprendere. Sperotto dietro per Marx, tutta del numero 15, una piazzata, la tiene per miracolo, free ball di Frac, dall'altra parte, Pochini, perfetto, Pipe, che non viene chiusa da Antonino Suraci, scusa di Suraci, palla direttamente dall'altra parte, free ball, gestita da Torchia, stavolta Marx, di Pinetto, recezione di Di Silvestre, palla tocca il naso, ci arriva Pochini, palla avanti per Mariano, che va a chiudere questo secondo set, due muri, si riparte con Sperotto al servizio, non accenna neanche il tentativo di difesa, palla a terra, sorgente, stavolta Paris, in primo tempo, la battuta di Suraci ed è un ace, per dire che zona prendere, lo gli scela, prende, con il nuovo entrato numero 6, la ricezione di Pochini, palla dietro per Suraci, ancora di Silvestre, al servizio annullato, il primo set point, Sperotto, ancora Gasparini, che va a chiudere, su nove occasioni, due muri per la squadra di Tomasello, si ritorna in campo, si riparte subito con questo muro coperto, non può però contrattaccare Conad, Conad, e lo fa Pineto, in questo salto flotte da posto 5, a cercare proprio lo gli scelta di tre metri, il primo tempo, sale al servizio, arriva davanti a tutti come un fulmine colpito, battuta di Sperotto, la ricezione di lo gli scelta, dall'altra parte, Marx, dentro dal time out, tira una bomba, la tiene però Mariano, per Marx, contenuto il suo attacco, può rigiocare Panciocco, arriva il muro, Cacce dice Gasparini, per Sperotto, Romolo Mariano, la chiude, la chiude Romolo Mariano, 3 a 1, 16 a 25, 25 a 20, 25 a 20, 25 a 22.